Abbiamo cercato di dare risposta a un evento straordinario che porterà oltre 100.000 presenze a Olbia in giorni particolarmente caldi per quello che sono il sistema dei trasporti nel capoluogo galurese. Ringrazio quindi Trenitalia, ringrazio l'Arst, ringrazio l'Asp, ringrazio tutte le aziende del trasporto pubblico locale che hanno raccolto l'invito perché siano coordinate le iniziative per incentivare il mezzo del trasporto pubblico. Parliamo di oltre 30.000 posti treno offerti complessivamente nei giorni dell'evento, di circa 3.000 posti bus offerti dall'Arst nel posto dell'evento e di una serie infinita di navette garantite dall'azienda del trasporto urbano di Olbia che consentiranno al tanto pubblico di poter raggiungere i luoghi degli eventi con i mezzi del trasporto pubblico.